Anche le grandi case d'asta guardano all'arte e alla tecnologia. Scopriamo cos'è successo da Christie's a Londra. A Londra si è tenuto il primo convegno dedicato alle nuove tecnologie applicate all'arte, precisamente da Christie's, promotrice del primo Art & Tech Summit, che ha coinvolto centinaia di operatori del settore. Scopriamo cos'è successo. Il mondo dell'arte sta cambiando, e il fatto che una grande casa d'aste come Christie's decida di organizzare, in collaborazione con Vastari e Christie's Education, il primo Summit internazionale dedicato all'arte e alle nuove tecnologie, è sicuramente un grande segno di innovazione e di crescita per il settore. In particolare, si è rivolta l'attenzione a quelle nuove tecnologie che vengono considerate veramente disruptive, ossia, in questo momento, la blockchain. Quella catena di blocchi che valida delle informazioni e che permette oggi di avere trasparenza e conferma di alcune procedure. Anche l'arte guarda questi fenomeni con grande interesse. Per questo motivo sono stati chiamati in causa oltre 30 professionisti del settore da parte di tutto il mondo, i quali hanno affrontato i limiti e le possibilità che questa tecnologia può apportare al mondo dell'arte. Una tematica calda, molto complessa e difficile, che tocca trasversalmente differenti tematiche, settori e soprattutto problematiche. Al pari di quanto potrebbe essere una soluzione quantomeno attesa a una serie di rischi e problematiche che attanagliano il mondo dell'arte da una vita. Per questo motivo, l'argomento ha coinvolto centinaia di presenti. Si è trattato di un evento veramente unico, dal grande interesse e attenzione da parte di media, di stampa, operatori del settore, curiosi, galleristi e protagonisti del sistema dell'arte. Oltre 300 persone erano presenti e tutti quanti con una grande curiosità di come in qualche modo questa tecnologia possa assolvere o meno alle problematiche inerenti alla trasparenza, alla provenienza e l'autenticità delle opere d'arte. La grande partecipazione, probabilmente dovuta anche al fatto che gli stessi operatori e le grandi istituzioni non capiscono ancora bene qual è la portata di questa tecnologia. E ovviamente la difficoltà in qualche modo a capire come poter posizionare quotidianamente questa tecnologia in un mercato e in un sistema opaco o comunque difficile da gestire e soprattutto comunicare. In un mercato che oggi vale 70 miliardi è stato di particolare interesse l'intervento di Anne Bress-Girdle, Associate Vice President and Photography Specialist di Christis, che fa un'interessante lettura di come queste nuove tecnologie possano in qualche modo essere d'aiuto sotto tre principali punti di vista. Il suo intervento è stato di assoluto interesse e di apertura verso un mondo dell'arte maggiormente aperto è fatto di un ecosistema tracciabile e trasparente. Seppure la Casa d'Aste in questo momento ha dichiarato di non prendere posizione precisa nel mondo della blockchain in quanto informazioni incorruttibili, privacy, dati criptati sono di grande aiuto verso un mercato che ha bisogno in qualche modo di maggiore solidità e in parte trasparenza. Durante il summit non sono mancati momenti di riflessione nel quale sono state anche analizzate tutte quelle problematiche legate ovviamente alla privacy, in particolare alla gestione del GDPR e anche della tracciabilità di questi dati ma soprattutto della permanenza in rete e quindi capire come si può controllare questa catena di informazioni che da un lato pensa alla trasparenza e all'immutabilità dall'altro lato ci sono delle problematiche legate alla privacy e quindi alla possibilità di un utente di poter evocare determinate informazioni che lo riguardano lasciando trasparire una visione comunque interessante ma sicuramente da approfondire. Io ero presente e ho avuto la fortuna di potermi relazionare con tanti relatori presenti e soprattutto altre start-up e professionisti. La cosa secondo me che è emersa maggiormente è il fatto che la blockchain possa essere davvero una grande opportunità. Il problema principale è che tutti si focalizzano sulla soluzione tecnologica. In realtà a mio avviso quella deve essere un mezzo un mezzo di supporto a tutto quello che è fisico e che c'è dietro. Allora forse può esserci una soluzione e una evoluzione nel mercato dell'arte. Ma questo è il mio pensiero. E tu cosa ne pensi?